Il Moscato d'Asti è il vino che tutto il mondo ci invidia, simbolo di eleganza, di raffinatezza, di straordinaria complessità aromatica. Purtroppo, molto spesso, troppo spesso, siamo noi italiani a denigrarlo e a non dargli il merito che effettivamente ha come unicum dal punto di vista dell'eleganza e dell'aromaticità. Da una vigna particolarmente vocata deriva il Moscato d'Asti, la Galeisa, un tripudio di raffinatezza aromatica. Meraviglioso colore paglierino tenue con una spuma densa e compatta. Un naso classico che profuma innanzitutto di uva moscato e poi di fiori di tiglio, di zagara, con note di pesca bianca, salvia, timo e fiore di mandorla. Dolcezza raffinata, coadiuvata da una splendida freschezza e da un'ottima sapidità. Si spegne in un lungo, lunghissimo finale in cui ritornano coerentemente tutte le sensazioni olfattive, in particolar modo quella di salvia e di zagara. Vino da servire tradizionalmente a 8 gradi di temperatura, in calici non troppo stretti per poterne gustare la complessità aromatica. Abbinamento quasi obbligatorio. Il panettone classicissimo con uvetta e canditi.